Siamo nelle porte di Siela, nella bellissima azienda di Alessandro Griccioli, una minicola stupenda. Abbiamo trascorso questi due giorni per certi pezzi con un lavoro intenso perché c'è stata una bella e profigua partecipazione. Questa prima giornata che come al solito nella parte iniziale della mattina è dedicata al racconto che faccio insieme a Maurizio, delle mie fotografie, della storia che c'è dietro, della filosofia di scatto che ne accompagna. Successivamente a questo siamo andati nella zona delle Cresce Senese per fare un vero proprio workshop operativo. Abbiamo scattato in un contesto straordinario, ripeto favorito anche da una bellissima stagione. Abbiamo trovato questi campi di grano meravigliosi, con cui questo colore così biondo, sfavillante, con una luce straordinaria, con i nostri due bellissimi modelli veramente perfetti. Il giorno dopo, come al solito, viene poi fatta una lettura porfolio, sempre in questo tema di condivisione, perché, ripeto, non è stata solo e soltanto di una lettura porfolio individuale, bensì una lettura porfolio collettiva che coinvolge tutti i partecipanti in qualche maniera. Quindi si crea uno scambolo di esperienze, di idee. Vedo che questo è servito, è piaciuto. Abbiamo chiuso, diciamo, la serata con quella parte più libera, più legata a domande che ci vengono fatte, che ci vengono fatte sulla professione, sul lavoro, sulle particolarità dell'evoluzione di questo nostro tipo di lavoro. Ripeto, vedo che tutto questo è andato veramente bene, talmente tutto bello qua che siamo stati così, diciamo, coinvolti dall'ambiente, dal luogo, da queste giornate che io personalmente sono molto soddisfatto. Mi auguro che sia occasione questa di ripetere un'esperienza del genere, che veramente è piaciuta a tutti.